e gli dice proprio questo se uno vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso cosa significa rinunciare a se stesso abbiamo riflettuto su queste parole le abbiamo mai considerate rinunciare a se stessi e questa diciamo la prima clausola che viene richiesta per poter essere dei seguaci di cristo e rinunciare a noi stessi significa mettere dio a primo posto affidare a dio il controllo della nostra vita lasciare che sia lui che ci dia i progetti che sia lui che ci dia un prospetto di quella che sarà la nostra vita futura non cercheremo più noi di seguire le nostre ambizioni non cercheremo più di soddisfare la nostra carne ma quando siamo disposti a rinunciare a noi stessi significa che abbiamo allargato tutto il nostro cuore che dio può prendere tutto quello che è nostro e usarsi dei talenti dei doni delle capacità anche quelle derivate dalle nostre esperienze di vita per poterle usare alla sua lode gloria amèn quello che fece nella vita di zaccheo non è un autentico miracolo quando lui si sente il cuore di rinunciare a tutto ciò che era stato lo scopo centrale della sua vita rinuncia a tutto inizia a fare calcoli che vanno oltre la proporzione dell'ego di quello che sarebbe stato giusto io do la metà di tutti i miei beni ai poveri il quadruplo quindi un interesse veramente alto a tutti coloro che ho frodato perché la grazia di dio quando davvero la possiamo afferrare per il valore che essa ha allora siamo consapevoli che rinunciare a noi stessi non è una perdita ma è un grande guadagno per zaccheo quel giorno non fu un giorno di gravi perdite economiche ma fu un giorno benedetto dal signore